Una prima premessa. Molto spesso si presentano dei dialoghi tra, diciamo così, realisti e antirealisti in una maniera un po' caricaturale, come se i realisti fossero dei bambini di prima elementare che credono che il mondo esterno sia proprio così come si presenta, preciso identico, noi vediamo le cose quali esse sono e non interviene. Poi invece ci sono gli antirealisti che sono bambini di seconda elementare e che invece sanno che per esempio, fai caso, togli la luce di colpo, non vedi più i colori, allora capisci che probabilmente i colori sono selezionati dai nostri occhi, poi i nostri schemi concettuali, apparati percettivi intervengono, eccetera, eccetera, eccetera. Allora direi, facciamo la tara su tutte queste due cose, cioè anche gli antirealisti hanno fatto la seconda elementare. Poi comunque questi aspetti li assumiamo come garantiti. Ovviamente il problema non è capire se c'è un mondo esterno oppure com'è che conosciamo questo mondo esterno. Il problema è in quanto intervengono le nostre, le aspettative dell'osservatore nella conoscenza del mondo esterno e quanti invece non intervengono, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ed è quello di cui vorrei parlarvi oggi e per illustrare qual è il mio punto in generale, qual è il punto su cui cerco di affrontare il tema osservatore e osservato. Inizio con un aneddoto che, fra l'altro, purtroppo è un aneddoto reale, realistico, mi è veramente successo, che ha in qualche modo a che fare con la Svizzera. Vediamo se... ecco. Allora, questa aneddota è avvenuta il 21 gennaio del 2004 alle ore 9.30. Ero dentro al tunnel del Monte Bianco. Riguarda la Svizzera perché ero... dovevo andare a fare una lezione a Ginevra e stavo attraversando il Monte Bianco venendo da Torino e lì, incautamente, visto che ero in ritardo, ho superato il limite di velocità. E ho superato il limite di velocità. E quindi, quando sono uscito di lì, sono stato multato da... sia degli italiani, sia dei francesi. Cioè, da entrambe le parti che gestivano il tunnel, come giusto che sia. Anche perché, poi, sembra brutto che invece si mettono d'accordo, questo lo pigliamo noi, questo lo diamo a voi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, però, il limite... ho superato il limite di velocità. E ho avuto, però, la cosa curiosa, tre multe, due italiane e una francese. Il motivo di questo è che c'erano tre autovelox che avevano visto, registrato l'aumento, il superamento dei limiti di velocità. Allora, mentre io avrei trovato equo che gli pagasse una multa agli italiani e una ai francesi, tre mi è parso troppo. E non solo perché erano altri 137 euro in più, adesso chissà quanto saranno, ma perché c'era qualcosa che non funzionava dal punto di vista filosofico, ontologico. Nel senso che, in definitiva, si assumeva che un evento aumentava, si moltiplicava in ragione degli osservatori. Questo è il punto. Essendo stato osservato tre volte, diventavano tre eventi. Mentre due soltanto sarebbe stato più sensato perché uno diceva, va bene, ci sono due amministrazioni che gestiscono questo e fanno a metà, ma tre. E ovviamente qui la fantasia galoppava perché se ci fossero stati un milione di autovelox avrei potuto chiedere soltanto di essere fucilato. Non c'erano scelte, senza dimenticare che poi ci possono essere anche tutti i vari paradossi di Achille della tartaruga perché frammentando in singoli eventi tutti gli istanti in cui avevo superato questo limite di velocità e moltiplicandolo per il milione di potenziali osservatori che si potevano mettere dentro ad un tunnel, sarebbe venuto fuori una cifra vertiginosa. Ora, questo è il punto su cui vorrei portare la vostra attenzione con queste osservazioni realistiche. Quindi intitolerei tutto questo come osservazioni sull'osservatore, nel senso che l'osservatore, come è giusto che sia, presume molto di sé e spesso presume anche di essere molto più costitutivo di quanto non sia rispetto al mondo esterno. Per cui io annuncerei questo principio che è anche banale, cioè la conoscenza è conoscenza di qualcosa di diverso e indipendente dalla conoscenza, altrimenti non è conoscenza. Questo sembra banale, però in fondo per conoscere qualcosa devi conoscere qualcosa di diverso da te stesso, a meno che tu faccia dell'introspezione perché se no sembrerebbe che non conosci niente. Tra l'altro sarebbe facilissimo essere degli scienziati che sanno tutto. E quindi l'osservatore osserva nell'osservato qualcosa di diverso e indipendente all'osservatore, altrimenti non è osservazione ma introspezione. Cioè c'è oggettivamente una differenza tra quello che noi facciamo quando chiudiamo gli occhi e pensiamo ai nostri peccati e invece quando li guardiamo fuori e ci sembra che siano delle cose che stanno lì fuori e hanno una loro realtà indipendente. Ora cerco di articolare questo in tre punti. Faccio vedere quello che chiamo epistemologismo sarebbe, e purtroppo non posso sempre andare a fare degli esempi più divertenti come quei tunnel, c'è poco da fare, prima o poi si arriva sempre al latinorum e al gergo. Comunque quello che propongo di chiamare epistemologismo è una tendenza molto molto diffusa nella filosofia, direi da Descartes in avanti, la filosofia moderna è stata molto legata a questo, che dà un ruolo predominante all'osservatore sull'osservato. Perché? Perché in fondo la filosofia moderna è quella che non solo scopre quanto importante sia l'osservatore ma soprattutto assume che l'osservatore è qualcuno che noi conosciamo direttamente subito, insomma Cartesio dice io che ne so di quello che sta fuori. L'unica cosa di cui sono certo è che io io penso, io dubito, quindi ho una conoscenza immediata di questo, mentre di tutto il resto ho una conoscenza mediata. Questa tendenza tipica del pensiero moderno io lo chiamerei in generale epistemologismo, cioè la tendenza di confonda, a confondere quello che c'è con la conoscenza che noi abbiamo di quello che c'è. Questo lo troviamo in tantissimi, ci sono dei principi anche molto sensati, per esempio un grande filosofo come Berkeley ha fatto quell'esempio famoso, se un albero cade in una foresta e non ci sono osservatori di alcun tipo, in fatti specie ascoltatori, si può dire che quell'albero ha fatto rumore, uno potrebbe anche legittimamente dire che no, l'albero non ha fatto rumore perché nessuno stava a sentire. Però resta il fatto che ponendo che ci fossero due osservatori o uno solo che vede l'albero che cade, l'albero fa rumore, ma è l'albero che fa rumore, non sono gli osservatori che fanno rumore. Bisogna stare attenti a non confondere questa faccenda qua e pur sempre quell'albero che ha fatto rumore, non sono stati, se no potremmo avere tutti gli rumori, esistono le allucinazioni. Comunque questa è la posizione che io chiamo epistemologismo nel senso che sarebbe un far prevalere quello che sappiamo su quello che c'è. È anche una cosa che per esempio gli psicologi chiamano errore dello stimolo, è una cosa come quando chiedi a qualche d'uno di chiudere gli occhi e poi gli chiedi che cosa vede e questo ti risponde vedo niente oppure vedo nero. Non è vero, sta mentendo, nel senso che se noi chiudiamo gli occhi vediamo tanti colori, tante piccole cose, fosfeni e cose varie. Lui però in quel momento sta raccontando una teoria. C'è una teoria classica della visione che paragona l'occhio ad una camera oscura, entra la cosa, se io chiudo a questo punto vedo nero. Con questo lui non sta assolutamente descrivendo quello che vede. Racconta una teoria, ecco, questo è quello che chiamo epistemologismo. A questo io contrappongo quello che sarei portato a chiamare ontologismo, semplicemente, ecco così finalmente si spiega cos'era l'ontologia. Allora l'ontologismo sarebbe banalmente questo. È ovvio che una parte importantissima della nostra esistenza va impegnata nella conoscenza di oggetti, eventi, situazioni e questa è fra l'altro la cosa migliore che possiamo fare nella nostra vita. Tuttavia questa conoscenza sarebbe vana se eventi, oggetti, eccetera, non fossero indipendenti da noi. Cioè è necessario che questi oggetti abbiano una indipendenza rispetto a noi, se no il sapere non ha nessun significato. Cioè se davvero ci fosse una sistematica costruzione della realtà esterna da parte dell'osservatore, la conoscenza della realtà esterna avrebbe pochissimi interessi, nel senso che sarebbe appunto comunque che ti racconti sui suoi sogni, non c'è niente di più noioso di quelli che ti raccontano i loro sogni e anche sentire il discorso di un chimico, di un fisico, di un astronomo sarebbe sentire uno che ti racconta i suoi sogni. E questo direi, l'ontologismo lo definisco una specie di livello minimale del realismo. Poi faccio anche un'altra ipotesi, un po' più ambiziosa, che propongo di chiamare emergentismo e in maniera proprio assolutamente approssimativa, che significherebbe questo. In realtà non solo si tratterebbe di ridurre un po' quella visione estremamente costruttivistica che ci porta a supporre che siamo noi i costruttori della realtà esterna, ma dobbiamo, abbiamo anche buoni, e questo sarebbe come dire l'ontologismo, la posizione dell'ontologismo che limita quell'idea iper costruzionistica che spesso si ha, che i filosofi moderni hanno della realtà e poi le persone moderni in generale sulla scia di filosofi moderni, di fatti loro. L'emergentismo in realtà è qualcosa ancora di più, è dire che non solo siamo molto meno costruttivi rispetto all'esterno di quanto siamo portati a pensare, ma se non ci fosse una, come dire, una linea di direzione che dall'esterno viene verso di noi, cioè delle cose che si orientano verso di noi e facilitano la nostra interazione, sarebbe molto difficile un rapporto qualsiasi tra enti all'interno del mondo, soprattutto tra genti e persone. Mi spiego, noi vediamo, ci capita, spesso si spiega, poniamo la interazione fra persone dicendo, bene, noi interagiamo fra persone perché condividiamo degli schemi concettuali, cioè per esempio Elena Volpata ed io parliamo la stessa lingua, abbiamo subito, adesso non mi permetto di entrare nella vita privata di Elena Volpato, però presumiamo, siamo andati a scuola, poi abbiamo un certo numero di neuroni, non so, tutte queste cose e questo permette la nostra interazione. Questo sembra spiegare bene come funziona, fra l'altro, tutti e due abbiamo degli occhi, questi occhi sono più o meno uguali ed è per questo che io vedo io della Volpato, lei vede me, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è se io mi metto a giocare con il mio gatto, perché il mio gatto non parla la mia lingua, credo che veda le cose anche diversamente da me e meglio, sente gli odori molto meglio di me, ha schemi concettuali sicuramente differenti eppure io riesco ad interagire con il mio gatto. Com'è possibile questo? Se noi facciamo riferimento al sistema degli schemi concettuali l'interazione non si spiega, quindi bisogna immaginare che in realtà ci siano nell'ambiente delle risorse che permettono l'interazione anche senza il sapere o la condivisione di schemi concettuali e questo è grosso modo quello che indico con il termine molto impreciso di emergentismo. Allora, cominciamo con il primo ismo. Ci sono molti che dicono detesto gli ismi e fra questi molti saranno delusissimi da questa presentazione. Era tutta una presentazione sugli ismi. Allora, l'epistemologismo ha varie forme. Quello che vorrei sottolineare è questo. La tesi dell'epistemologismo, perché spesso, sempre in queste cose, dicono ah ecco qui ci sono i filosofi realisti che sostengono che la realtà esiste e sai che scoperta. No, la tesi dell'epistemologismo non è il mondo esterno non esiste, bensì il mondo esterno esiste dipendentemente dai soggetti. c'è una forma grande o piccola per cui il mondo esterno, le cose che stanno fuori, dipendono dai soggetti osservanti. Ci sono varie forme di epistemologismo, come ci sono varie versioni di un unico peccato, di un'unica perversione o follia, e c'è il correlazionismo, il costruttivismo, il culturalismo e il trascendentalismo. Quindi vedete che non si è economizzato sugli ismi proprio per niente. Allora, il correlazionismo è un neologismo che è stato creato da un filosofo francese che si chiama Quentin Meillassoux, che ha fatto nel 2006 un libro che ha avuto un grande successo, si intitola Dopo la finitudine, e dice il correlazionismo è il carattere proprio della filosofia moderna, un po' quello che dicevo prima, cioè per cui il mondo esiste solo in correlazione i soggetti che lo pensano. Badate, Meillassoux non è correlazionista, Meillassoux critica il correlazionismo, ed è per questo che è diventato il capofila di un movimento filosofico di impianto realistico. Esempio tipico di correlazionismo, perché fra l'altro i correlazionisti non sono, come dire, gli ultimi scemi, sono alcuni fra i più grandi filosofi della storia della filosofia moderna, tra questi c'è Kant, tra questi c'è Descartes, tra questi il più poetico secondo me, potrebbe essere veramente il, come dire, un esergo da mettere in ogni discorso su osservatore osservato, e Schopenhauer, il primo paragrafo del mondo come volontà e rappresentazione, dice il mondo è una mia rappresentazione, spiego se io rifletto razionalmente che cos'è che vedo quando guardo fuori, è semplicemente esiste soltanto un occhio che vede e un mondo che viene visto. Quindi riduce tutto ad una relazione fra il vedente il veduto, tutto quello che c'è è questa correlazione. Ora, l'argomento che Meiasu adopera contro il correlazionismo, lo chiama l'argomento dell'arci fossile e funzionerebbe così. Sappiamo molto bene che troviamo dei fossili che segnalano che c'erano degli esseri molto prima che ci fossero degli ich denke, dei cogito o cose di questo genere. A norma di correlazionismo questi qui non avrebbero dovuto esserci, perché visto che i dinosauri esistono soltanto perché ci sono degli osservatori di dinosauri, visto che non ci sono stati osservatori di dinosauri all'epoca dei dinosauri, i dinosauri non sono esistiti. Questa sarebbe la conclusione imbarazzante a cui si perviene con il correlazionismo. Allora, anche qui il problema del correlazionismo diventa molto chiaro. Cosa stai facendo qua dentro? Semplicemente confondi il fatto che c'è un ruolo attivo del soggetto dal punto di vista conoscitivo nella conoscenza del mondo con l'idea che questo ruolo sia costitutivo, cioè che tu veramente stai costruendo quello che stai osservando, cosa che per inciso rende molto meno interessante la costruzione perché a quel punto non stai osservando ma stai pensando fra te e te. E da questo punto di vista il costruttivismo, che è una forma un po' più robusta di correlazionismo, è ancora più esplicito. Va bene. Costruttivismo poi è un termine molto più corrente, non è un neologismo. C'è questo filosofo americano Paul Bogossian che ne ha parlato tanto in un libro, anche quello dello stesso anno, che ha fatto molto discutere. Dice, non è soltanto una correlazione, dice, c'è una forma di dipendenza dell'osservatore rispetto all'osservato. Che sembra anche interessante. In fondo già qualcosa di questa interdipendenza alleggiava nell'argomento di Berkeley, perché appunto il rumore dell'albero sembra dipendere dagli osservatori. Però appunto bisogna capire se è una dipendenza ontologica, cioè relativa al fatto che l'albero cade, oppure epistemologica rispetto all'accesso che noi abbiamo alla caduta dell'albero. E proprio dice, sì sì, no, effettivamente è vero, c'è una forma di dipendenza. Però quando tu cerchi di precisare qual è questa dipendenza non la trovi. Molto spesso si lavora, perché? Allora, poniamo, la dipendenza causale. Cioè noi siamo causalmente costruttori di ciò che conosciamo. Chi può avere assostenuto qualcosa di così assurdo? E purtroppo nel nostro ramo trovate sempre uno. Questo è Giovanni Gentile, che fra l'altro è un illustre filosofo italiano, che all'inizio del suo capolavoro filosofico, la teoria generale dello spirito come atto pur, inizia anche lui, dice che Giorgio Berkeley, già nel diciottesimo secolo aveva affermato che, e racconta la versione fasulla dell'albero, cioè fa dipendere la caduta dell'albero da Giorgio Berkeley che si trova in quel momento in un bosco. E che è implausibile, però lui la racconta proprio così dicendo perché noi abbiamo contatto soltanto con i nostri dati di coscienza. Al di là tutto ciò è intrascendibile e quindi c'entra da fare. Uno gli potrebbe dire, sì ma scusa, poniamo che applichiamo così duramente le sesspercipi, cioè esistono le cose solo nel momento in cui le percepisci. Allora supponi che uno sente due che si dicono, io di solito il mercoledì vado in piscina, bugiardo, perché esisti solo in questo preciso istante in cui io ti sto sentendo, quindi non è possibile che tu faccia riferimento ad un abito, a una consuetudine, eccetera, dal momento che esisti solo in questo preciso istante in cui io ti sento. È chiaro che troviamo difficoltà in questo tipo di dipendenza. Poi invece abbiamo una dipendenza un po' meno estrema che è quella di Kant. Kant dice, le intuizioni senza concetto sono cieche, il che lo si può adoperare in due sensi. In un senso debole è che effettivamente i concetti ci aiutano a dar forma, dar senso, dal significato all'intuizione. E fin qui non c'è nessun problema. Però se noi invece lo adoperiamo, ed è andata così con l'eredità di Kant, perché poi gli sono venuti fuori gli idealisti, i concetti sono costitutivi dell'esperienza, c'è un lavoro del concetto che costituisce l'esperienza, cioè se noi non avessimo per esempio il concetto di causalità, non ci sarebbe causalità. Allora ritorniamo alla dipendenza causale, cioè ad un ruolo costitutivo dell'io rispetto al mondo e questo non funziona. Quindi o la fai troppo forte e allora hai tutti i problemi della dipendenza causale, o la fai troppo debole e allora non è più una dipendenza. Perché per esempio un filosofo americano, Richard Rorty, aveva detto la dipendenza del mondo rispetto a noi non è una dipendenza causale, ma è una dipendenza rappresentazionale. Perché non si capisce bene che cosa voglia dire. Cioè nel senso che se tu vuoi dire che siamo noi che abbiamo dato il nome Tyrannosaurus Rex al Tyrannosaurus Rex e che il Tyrannosaurus Rex non ha mai saputo di chiamarsi Tyrannosaurus Rex, questo è indubbio, ma non si capisce in che senso il Tyrannosaurus Rex debba essere dipendente dal nome che noi gli abbiamo dato. Cioè lui è vissuto esattamente come è vissuto nella più totale ignoranza del proprio nome eppure è andato avanti esattamente così. Quindi in realtà questa, se vuole essere una dipendenza, non è una dipendenza, è una dipendenza illusoria. Ed è soprattutto questa dipendenza illusoria, dal punto di vista ontologico, badate bene, non epistemologico, perché invece chiamare Tyrannosaurus Rex in quel modo lì e classificarlo fra i sauri e metterli tutti da una parte della divisione del vivente, questo ci fa certo conoscere moltissimo le cose, ma di nuovo non cambia niente rispetto a tutti quei sauri vissuti in epoche antichissime. Questo tipo di, quindi quello che sto dicendo adesso riguarda sempre solo la dipendenza ontologica, non la dipendenza epistemologica. È chiaro che sapere le cose aiuta, ma non muta le cose, anzi un bene che non muti le cose perché se no queste cose muterebbero in continuazione la misura in cui noi le conosciamo. Questa dipendenza debole è quella più diffusa. Quando si sostiene che c'è una dipendenza dell'osservato dall'osservatore si intende una dipendenza rappresentazionale, dunque nessuna dipendenza dal punto di vista ontologico, cioè, chiaro, ci sono infinite dipendenze epistemologiche. Per esempio, tipi classici di questa dipendenza debole, di fatto inesistente, è quello quando c'è Gadamer che dice l'essere che può venire compreso il linguaggio, oppure appunto Derrida che dice non c'è fuori testo. È evidente che quando tu come scienziato, oppure come, ma anche semplicemente come uomo acculturato, ti rapporti al mondo, certo non c'è fuori testo, ma questo riguarda la tua conoscenza del mondo, non riguarda come è fatto il mondo in se stesso. Il mondo in se stesso è radicalmente fuori testo perché l'intera storia del mondo naturale è vissuta per largissima parte in epoche anteriori agli uomini, in epoche, insomma, e per grandissima parte fuori testo. Allora, quello che unisce tutti questi atteggiamenti, cioè tutti questi ismi, il correlazionismo, il costruttivismo, il culturalismo e il trascendentalismo, cioè la marchio di fabbrica della filosofia moderna, quello che troviamo in Kant, perché condividono tutti insieme quello che ho chiamato altrove fallaccia trascendentale, perché è questa fallaccia che sta alla base della filosofia trascendentale, per cui si confonde l'ontologia, ossia quello che c'è, con l'epistemologia, la conoscenza che noi abbiamo di quello che c'è. Voglio dire, questo bicchier d'acqua, per dire, e allora qui acqua sarebbe H2O, ma questo non si sapeva due secoli fa, e probabilmente, cioè probabilmente, non è neanche escluso che poi fra due secoli sarà classificato diverso, e quindi non si dirà più H2O, ma un qualcos'altro. Però le proprietà dell'acqua sono esattamente le stesse, ed erano uguali anche prima che qualunque essere vivente comparisse sulla Terra, trovandosi in una totale dipendenza rispetto all'acqua. Dunque, dice, ma chi è che commette questo tipo di errori, di fallaccia per cui confondi una cosa con l'altra? Vabbè, questo è un esempio famoso, cioè un epistemologo francese, Bruno Latour, aveva letto sul giornale questa notizia, in se stessa curiosa, e cioè, questo avveniva una ventina di anni fa, che avevano portato a Parigi la mummia di Aramsete II, l'avevano messo nell'ospedale di Valgrasse, avevano esaminato i tessuti della mummia, e avevano concluso che il faraone era morto di tubercolosi. Questa è la cosa. C'erano anche degli aspetti interessanti, perché pare che la mummia fosse stata accolta all'aeroporto con onori regali, del resto è anche giusto, cioè, dopo tutto, era un faraone, e poi hanno esaminato questo. Latour, un po' per ceglia, ma anche tanto sul serio, ha scritto un articolo in cui sosteneva che il faraone non poteva essere morto di tubercolosi, perché il bacillo della tubercolosi è stato isolato da Koch nel 1882. Fra l'altro, c'è sempre sotto quella faccenda di quello che cade, l'albero che cade nella foresta, perché a questo punto ci sarebbero tre possibili scenari della morte di Aramsete II, nel senso che o era morto, per fatti suoi misteriosi, poi andiamo nel 3000 a.C., oppure ha cominciato a morire nel 1882, che si informasse, oppure, peggio, era morto alla fine degli anni 90 del secolo scorso, quando gli hanno trovato di che cosa è morto. Da notare che se questo atteggiamento fosse vero, non ci sarebbe nessuna scienza più pericolosa della medicina, perché tutte le volte che tu scopri una malattia, di fatto tu stai creando questa malattia, ed era del resto quello che diceva Latour, e quindi come risultato noi spendiamo cifre prodigiose per accrescere i mali del mondo. E questo, quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Ci sono tante varianti, ma per esempio, ecco, cose utilissime, le scienze cognitive. Ritengo che le scienze cognitive siano una cosa importante, uno dei più grandi passi in avanti che sono stati fatti. Fra l'altro, la conoscenza che noi abbiamo del cervello, quella che ne avevamo 30-40 anni fa, non era molto più grande di quella che ne aveva Kant, e quindi praticamente zero. Adesso siamo all'inizio della conoscenza, e non è difficile immaginare che fra cent'anni si sapranno davvero molte cose su come funziona il cervello, cioè uno degli argomenti più interessanti che si possono immaginare. Però talvolta gli scienziati cognitivi hanno la tendenza a dire che, a fare delle tesi sul mondo, cioè c'è sotto un assunto kantiano per cui una volta che tu hai conosciuto come conosciamo, hai anche conosciuto quello che conosciamo, che non è molto diverso da quello che succedeva al povero Faraone. Quello era morto per fatti suoi, ed era proprio morto di tubercolosi. Noi adesso sappiamo che è morto di tubercolosi, però già allora era morto di tubercolosi. Allora, posto che questo sia l'epistemologismo, cioè appunto questa idea di un intervento in debito del conoscente sul conosciuto, l'ontologismo è questa posizione che poi non è tanto, è solo fare questa differenza. Per l'ontologismo la neve è bianca se e solo se la neve è bianca, indipendentemente dalla proposizione la neve è bianca se e solo se la neve è bianca. Vale a dire, se la neve è bianca fosse bianca solo nel momento in cui si dice la neve è bianca se e solo se la neve è bianca, ci avrebbero ottimi motivi per dubitare che la neve sia veramente bianca. E questo è così per venire al nostro. È ovviamente falso dire i dinosauri, cioè l'essere dei dinosauri dipendono dai nostri schemi concettuali, mentre ovviamente è vero dire i libri sui dinosauri, i corsi sui dinosauri, i film sui dinosauri, i nomi dei dinosauri, tra cui appunto il nostro sapere sui dinosauri dipendono dai nostri schemi concettuali. Cioè c'è solo una differenza di livello, c'è quella parte lì che non dipende dai nostri schemi concettuali, poi dopo tutto quello che ne sappiamo ovviamente dipende dai nostri schemi concettuali. Ma se anche i dinosauri dipendessero dai nostri schemi concettuali, allora non ci sarebbe differenza tra la paleontologia e l'astrologia, perché tanto ti inventi tutto. Da questo punto di vista, quello che richiamo come la nozione di inemendabilità, è l'idea che almeno alcuni oggetti del mondo esterno esistono indipendentemente dagli osservatori. E di questo facciamo esperienza proprio quando questi oggetti resistono ai nostri pensieri o alle nostre attività. Cioè per esempio la resistenza molto fastidiosa che il mondo ci oppone è una discreta prova di una indipendenza del mondo rispetto agli schemi concettuali. Io faccio sempre l'esempio delle cosiddette illusioni ottiche. Per esempio sapete l'illusione di Müller-Lier, quella per cui ci sono questi due segmenti, solo che uno poi ha delle frecce così agli estremi e l'altro invece le ha così. Quello che tu vedi è che i due segmenti ti appaiono diversi, ma tu sai benissimo che sono uguali e tuttavia ti appaiono diversi. Questo non è la prova del fatto che in realtà sono diversi. No, no, sono proprio uguali. Il fatto che però tuttavia ti appaiono diversi è la dimostrazione del fatto che per esempio l'idea che le intuizioni senza concetto sono cieche non funziona, perché noi sappiamo benissimo che sono uguali eppure li vediamo diversi. Così come noi sappiamo benissimo che dentro al coniglio papero di gestro c'è tanto un coniglio quanto un papero, però non riusciamo a vederli tutti e due insieme. Vedi, sempre o il coniglio o il papero. Quindi c'è una indipendenza della visione dal pensiero. Quindi qui facevo un po' di differenza tra epistemologia e ontologia, ma non la tiro tanto per le lunghe perché l'ho già tirata troppo per le lunghe. Anche questo forse si può fare. Ecco, su questo volevo portare la vostra attenzione. Mondo interno, mondo esterno. Uno degli argomenti più, come dire, maliziosi che si fanno rispetto alla nozione di mondo esterno è il seguente. Boh, tu parli di mondo esterno, ma dove comincerebbe questo mondo esterno? Cosa intendi con mondo esterno? Intendi esterno al tuo corpo e quindi il tuo corpo non sarebbe mondo esterno? Esterno alla tua mente? Ma e cosa intendi con mente? Vuoi dire che esterno e interno al cervello? Il nervo ottico, dove lo metti? Dalla parte del mondo interno al mondo esterno e si va avanti su cose di questo genere. Non è su questioni topologiche che si determina la differenza tra mondo interno e mondo esterno. Questa differenza si stabilisce su altre basi e per esempio sul fatto che ci sono parti del mondo che sono esterne ai nostri schemi concettuali e alla nostra volontà, cioè su cui noi non riusciamo ad agire. Bene, queste qua sono il mondo esterno. Il mondo esterno non è nient'altro che le cose che stanno fuori dei tuoi schemi concettuali su cui puoi agire, non puoi agire. Laddove il mondo interno sono le cose che stanno dentro ai tuoi schemi concettuali e sui quali puoi agire. Paradossalmente, per esempio, anche una cosa che ha a che fare molto con il mondo sociale, come per esempio le promesse, di fatto una volta che sono formulati diventano mondo esterno. In che senso? Nel senso che io prometto a qualcuno, stasera andiamo al cinema, assieme poniamo. Poi però alle cinque cambio idea e a questo punto sono più o meno costretto a chiamarlo e a dire no. Se invece fosse stato soltanto un mio privato pensiero, non avrei dovuto avvisare nessuno. Questa cosa che è stata posta fuori, che non è più dipendente dalla mia volontà, è un oggetto in più che si è inserito nel mondo e questo mondo, sebbene la fattispecie sia il mondo sociale, quindi non è nel Tyrannosaurus Rex, né le comete, né niente, è diventato mondo esterno, non ne sono più l'unico proprietario. Quindi, interno degli schemi concettuali, il mondo interno è dipendente dall'osservatore e queste sono, per esempio, le caratteristiche degli oggetti sociali e degli artefatti. Per usare in maniera appropriata un cavatappi è necessario sapere come funziona il cavatappi. Dopodiché si può immaginare che scompaia interamente l'umanità e resteranno dei cavatappi che non saranno più adoperati come cavatappi perché nessuno sa che servono come, cosa serve un cavatappi. Tuttavia avranno la loro stessa, avranno la stessa, mentre non ci saranno più crisi economiche, mutui, debiti, credo, tutto questo sarà abbonato e resteranno solo i cavatappi. Invece, esterno agli schemi concettuali e indipendente dall'osservatore sono, per esempio, gli oggetti naturali, gli oggetti ideali, cioè anche i numeri sono indipendenti dagli osservatori, così come in generale le montagne e tutte cose. Notate, anche qui, l'ambizione dell'osservatore spesso si spinge a osservazioni di questo genere. E cioè, sì, tu dici che le montagne sono indipendenti dagli esseri umani, però capisci che in fondo quando tu isoli qualcosa come montagne, dici fin qui è montagna e qua non è più montagna, stai introducendo qualcosa che è umano e per non tacere del fatto che poi sappiamo che la montagna è stata oggetto di esecrazione fino ad un certo punto e poi di culto pittoresco romantico da un certo momento in avanti, quindi le montagne sono costruite dagli studiosi di montagna. No, non è così. Io continuo a pensare che questa cosa che noi chiamiamo montagna a sua insaputa, esattamente come chiamiamo Tyrannosaurus Rex a sua insaputa e per sempre il Tyrannosaurus Rex, ha quelle caratteristiche specifiche indipendentemente da noi. Dopodiché possiamo, e per fortuna in un certo senso, e anche dobbiamo, perché non siamo fatti per vivere come brutti, approfondire la nostra conoscenza delle montagne. Faccio notare che ci sono dei casi in cui socialmente dipendenti significa socialmente costruite, cioè per esempio appunto le leggi del Parlamento sono socialmente costruite, però in molti casi anche nel mondo sociale ci sono delle cose che sono socialmente dipendenti, cioè esistono soltanto se ci sono delle persone sulla faccia della terra, ma che non sono socialmente costruite, nel senso che in generale sono leggi, istituzioni, cose che preesistono di gran lunga all'ingresso in campo delle persone che più che altro seguono queste leggi, si conformano, per esempio dire che una lingua è socialmente costruita è una frase che mi sembra complicata. L'esperanto è socialmente costruito, le notazioni logiche sono socialmente costruite, ma le lingue naturali non si può dire che sono socialmente costruite perché non sapremmo indicare con esattezza il momento in cui qualcuno ha detto bene inventiamo l'italiano e fra l'altro indicare questo momento credo che ci implichi delle operazioni di cui non verremo mai a capo. Va bene, vengo soltanto all'emergentismo per concludere e visto che mi resta ancora un minuto sarò particolarmente succinto sull'emergentismo, ma per fortuna l'essenziale sull'emergentismo l'avevo già indicato con l'esempio delle mie interazioni con Elena Volpato e con un gatto. E cioè il fatto che noi ovviamente facciamo dipendere interazioni fra agenti umani dal possesso e dalla condivisione di schemi concettuali, il che indubbiamente per certi tipi di interazione è evidente che è così, nel senso che è molto difficile interagire con un ungherese se nessuno di noi sa una lingua intermedia o se l'ungherese non sa l'italiano e non l'ungherese. Effettivamente mettersi a raccontare delle barzellette in italiano in ungherese è un'attività che suona profondamente futile perché bisogna condividere non solo dei schemi concettuali ma anche delle conoscenze molto solide e cioè quello di una lingua. Se non possiedi questo non ce l'hai. Tuttavia questo tipo di considerazione che portava appunto Gadamer a dire l'essere che può venire compreso il linguaggio perché dove finisce il linguaggio non è più comprensione, non è vero. Nel senso che noi per esempio abbiamo moltissime comprensioni tacite per cui non c'è bisogno di linguaggio. Io posso benissimo capire se l'ungherese è arrabbiato anche senza che lui mi dica in ungherese sono arrabbiato oppure se l'ungherese vuole che gli passi il sale persino anche senza che mi dica passami il sale e altre operazioni di questo genere. E a maggior ragione questo interviene per degli esseri, per esseri nell'interazione con altri esseri come animali oppure come gli oggetti. Per esempio gli oggetti hanno una direzione d'uso che è come se fosse lei a suggerirci l'uso che possiamo farne. Cioè io posso adoperare appunto un cacciavite anche come arma oppure per aprire un pacchetto oppure suggeriva sempre Rorti in un dialogo con Eco per pulirmi le orecchie, cosa che ha una forma di rischio ma si può fare soprattutto perché penso che essendo americano si riferisse a quei cacciaviti a stella che sono un po' meno pericolosi dei cacciaviti europei per questo tipo di operazione. Però sicuramente quello che non posso fare con un cacciavite è bere. Bere col cacciavite è difficilissimo, a meno che uno tinga sempre il cacciavite dentro al bicchiere poi ci va tanto tempo. E questo non è una cosa che dipenda dai nostri schemi concettuali ma dipende da com'è fatto il cacciavite. Allora questo ricordo sull'apribottiglie e chiudo qua c'è un filosofo francese che aveva fatto un libro dal titolo effettivamente promettente che era gli oggetti istruzioni per l'uso che è importante che però a un certo punto diceva un passo che ho sempre trovato problematico e cioè che qualsiasi praticamente qualsiasi cosa può essere usato come apribottiglie. Ho trovato molto problematico questo perché se è vero che praticamente qualsiasi cosa può essere usato come apribottiglie perché se non hai un apribottiglie non riesci ad aprire una bottiglia oppure se ti riduci a usare un cacciavite nella fattispecie spingendo giù e poi dopo c'è tutto il tappo rotto dentro la bottiglia eccetera quindi hai rovinato completamente il contenuto di questo. Io credo che su questo elemento possiamo concludere riflettendo sulle autonome caratteristiche che ha l'ambiente. Con questo ripeto non voglio minimamente ridurre l'importanza capitale che l'osservatore ha sull'osservato e così come per fare gli esempi delle prospettive che è stato citato all'inizio della relazione di Elena Volpato. È evidente che il pittore che dipinge una scena con la prospettiva non è meno costruttore del pittore bizantino che invece dipinge grandissimo l'imperatore e i santi e piccoli invece i funzionari o le persone comuni. Sebbene il primo sembra sempre costruire di meno del secondo. No, no, costruiscono tutti e due ma la cosa interessante è che tutti e due costruiscono in riferimento a qualcosa che è lì fuori che non dipende da loro. Grazie.